A tutti buon pomeriggio, benvenuti a questa edizione regionale del nostro Tg che apriamo con la cronaca, trasportavano rifiuti speciali dalla Campania per smartirli illecitamente in provincia di Foggia e Chieti, figura apicale del gruppo criminale sgominato, presunto tale dalla Guardia di Finanza e Carabinieri, un imprenditore di Sansevero. Una strutturata organizzazione criminale operante tra Campania, Puglia e Abruzzo dedita al traffico e allo smaltimento illecito e di rifiuti speciali è stata sgominata dalla Guardia di Finanza di Foggia e dai Carabinieri di Bari che con l'ausilio del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata delle Fiamme Gialle hanno eseguito sei misure cautelari personali e sequestrato beni per circa 1.600.000 euro. Le indagini hanno permesso di accertare una sistematica illecita movimentazione dalla Campania, di rifiuti speciali derivanti dallo scarto della raccolta differenziata, movimentazione finalizzata ad un loro stoccaggio e smaltimento in siti all'aperto, opportunamente recintati o all'interno di capannoni industriali tutti reperiti nella provincia di Foggia e di Chieti. Figura apicale, punto di riferimento dell'organizzazione, un imprenditore pregiudicato di Sansevero che in collaborazione con uno dei suoi fratelli, titolari di imprese nel settore del recupero di cascami e rottami metallici e di due imprenditori casertani, anch'essi fratelli operanti nel settore dei servizi logistici, pianificava nei minimi dettagli anche durante gli arresti domiciliari il trasporto dalla provincia di Caserta, quella di Foggia e di Chieti, di balle e di rifiuti misti recando grave danno ambientale per i siti contaminati. Complessivamente sono state sequestrate 13.100 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, tre capannoni industriali, un'area di 3.500 metri quadri, più vari fabbricati, terreni, quote societari e polizze, oltre a 1.600.000 euro di profitto illecito intercettato dai militari, tutte cose riferibili a 6 persone di cui 3 residenti nella provincia di Caserta, per loro sono scattate due custodie cautelari in carcere, una agli arresti domiciliari, tre divieti di dimora nelle regioni di Puglia e Abruzzo. Adesso ci occupiamo della vicenda vaccini, c'è una novità importante, è arrivato in Puglia il primo carico di vaccini Johnson & Johnson, poco più di 12.000 dosi, la consegna è stata effettuata in mattinata nei centri hub provinciali di riferimento e adesso sono conservati nei frigoriferi ad una temperatura tra i meno 2 e i meno 8 gradi. Le farmacie ospedaliere pugliesi stanno provvedendo a suddividerle per distribuirle poi a tutti i centri regionali. All'Istituto Tumori, Giovanni Paolo II di Bari, che è centro di stoccaggio dei vaccini anti-Covid-19 per tutta l'Asl di Bari, sono state consegnate 730 fiale, pari a circa 3.650 dosi. La Puglia è zona rossa a causa dei pranzi di Pasqua, a dirlo il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, nel corso di una trasmissione il governatore pugliese consiglia inoltre di non organizzare viaggi fuori dalla regione per la prossima estate. Molto probabilmente dal lunedì torneremo in zona arancione perché effettivamente adesso la curva ha ricominciato a scendere in picchiata. Lo ha detto il presidente della regione Puglia Michele Emiliano intervistato durante una trasmissione sulla 7. Il governatore ha ricordato che in Puglia si è in zona rossa per i pranzi e gli incontri di Pasqua. Capisco perfettamente che nella tradizione pugliese andare a trovare la mamma è fondamentale, però è anche pericolosissimo. Noi in Puglia eravamo in una discesa verticale ma sono bastati due giorni di Pasqua per riprendere e azzerare il lavoro di due settimane perché la variante inglese del coronavirus è velocissima nel contagio. Il governatore pugliese ha poi affrontato il tema legato alla scuola, sottolineando che il presidente Draghi ha posto una questione, rientrare nelle aule con l'obiettivo di farlo per bene a ottobre dell'anno prossimo, ma vuole avere la certezza che le prove generali che si faranno in quest'ultimo mese, in queste ultime settimane di scuola, mettano nelle condizioni di non fallire di nuovo l'obiettivo. Emiliano ha affrontato anche il tema legato ai viaggi, andare in giro durante l'estate fuori dalla Puglia o dall'Italia è una cosa che sconsiglio radicalmente. Stiamo progettando un sistema di turismo in cui sto chiedendo ai pugliesi che l'anno scorso se ne sono andati in giro per l'Europa, riportando tutte le varianti del mondo, di starsi a casa, come diciamo noi, perché la Puglia è bellissima e in questo modo ciascun pugliese dà una mano a un altro pugliese a tenere aperta la sua attività, ha aggiunto. Insomma, oltre al venite in Puglia, anche il restate in Puglia. E sempre sul fronte vaccini, emergenza Covid, è stata una giornata difficile in provincia di Bari per le vaccinazioni, le dosi scarseggiano, pertanto alcuni hub sono rimasti chiusi. Frenata delle vaccinazioni nel Baresi a causa della carenza di dosi, alcuni hub comunali sono rimasti chiusi. I sindaci hanno comunicato l'impossibilità di aprire le strutture per carenza di vaccini. Purtroppo, fa sapere il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, questa settimana le operazioni presso il nostro hub procedono molto più lentamente per la mancanza di vaccini. Nelle giornate dedicate ai pazienti extravulnerabili, l'hub rimane chiuso. Per domani è confermato l'accesso per i cittadini che si sono prenotati. Stessa situazione a Casa Massima, dove l'hub avrebbe dovuto aprire proprio oggi. Intanto, dalla Asla di Bari fanno sapere che nei centri comunali si stanno recando i medici di base. Viene confermata la carenza delle dosi. A tal proposito, nelle prossime ore saranno distribuiti 9.000 vaccini di Moderna. Sono in arrivo altre 12.000 dosi di Pfizer. Non appena sarà completata la distribuzione, potrà riprendere la somministrazione. Adesso cambiamo argomento. L'ingiusta ripartizione dei fondi provenienti dal recovery plan, dalla base della protesta del sindaco di Acquaviva delle Fonti. Clamorosa protesta del sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, ha trascorso la notte all'interno del Palazzo del Comune con alcuni consiglieri per manifestare contro l'ingiusta, a suo dire, distribuzione delle risorse del recovery plan al sud. Carlucci, con altri sindaci della provincia di Bari, ha annunciato che parteciperà alla manifestazione di protesta prevista a Napoli domenica 25 aprile, alla quale hanno già aderito 500 sindaci del Meridione. Io insieme a tanti altri sindaci, il sindaco di Ruvo, di Bitetto, di Giovinazzo, di tanti altri comuni pugliesi e tanti altri comuni del sud, saremo a Napoli domenica 25 aprile insieme al sindaco De Magistris per consegnare al prefetto un documento con il quale noi chiediamo non solo la revisione di questa quota, ma presenteremo un elenco di opere strategiche necessarie e vitali per il sud, perché altrimenti rischieremo di rendere eterno questo sottosviluppo che purtroppo ci perseguita da 160 anni. Torniamo ad occuparci adesso della vicenda del lavoratore di Arcelor Mittal, licenziato per un post su Facebook. L'Unione Sindacale di Base ha organizzato questa mattina un presidio, una manifestazione che si è tenuta a Roma, dinanzi alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico. Ancora nessuna soluzione per la vicenda che ha interessato il dipendente di Arcelor Mittal, Riccardo Cristello, che ha condiviso lo screenshot della fiction Sveglia ti amore mio. L'Unione Sindacale di Base ha sciolto il presidio dinanzi allo stabilimento di Taranto, ma prosegue la protesta spostandola a Roma. Sciopero e presidio, dinanzi alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico. C'erano anche Enricchi Tognazzi e Simona Izzo, e per il Comune di Taranto l'assessore Francesca Vigiano. Oggi siamo qui insieme alla delegazione del sindacato USB e altri di Alitalia, insomma, per manifestare e chiedere la revoca del mio licenziamento assurdo. Questo lo stiamo facendo per me in prima persona, ma anche per tutti i lavoratori d'Italia, perché non dobbiamo subire quello che ho subito io. Noi siamo qui non solo per sostenere il cardo, ma perché il film e la fiction che abbiamo fatto, fiction è una parola che io detesto, però diciamo l'opera che abbiamo fatto è stata, diciamo così, suscitata da una mamma calabrese, che quindi vuol dire che in Italia ci sono tante acerie e tanti draghi di fuoco che portano alla morte. Allora io dico, come è possibile che il nostro intento, cioè quello di far sapere alle persone consapevoli, ma fino a che punto, solo attraverso una storia, si racconta davvero la storia con S maiuscola, e al premier draghi, padre di famiglia, con due figli e una moglie bellissima, la prego, lei deve fare questo, anche se c'è tante cose da fare, ma mi creda, questo può diventare un virus, un virus che farà giurisprudenza, perché una persona che viene licenziata per un like, mi capisci, un like, e per un'idea, questo dà un'arma agli additti di tutto il mondo. Torniamo alla cronaca, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni mobili, mobili e disponibilità finanziaria per un totale di oltre 3 milioni di euro nei confronti di un'agenzia con sede nel capologo ionico esercente l'attività di prenotazione e assistenza turistica. Alla titolare dell'agenzia si contestano i reati di omessa e infedele dichiarazione, nonché in debito utilizzo di carte di credito e di pagamento finalizzato a dissimulare i profitti in nero dell'agenzia. Nella giornata mondiale della terra col diretti Puglia promuove un'iniziativa sul territorio e diffida 258 comuni inadempienti sulle lavorazioni di contrasto alla xylella fastidiosa. Oggi facciamo la prova di aratura contro la xylella. Eccole le lavorazioni per dare battaglia alla xylella fastidiosa in Puglia e quanto avviene nella giornata mondiale della terra su iniziativa di col diretti che diffida i 258 comuni pugliesi e gli antipubblici come consorsi di bonifica, ANAS e De Manio perché il tempo stringe le pratiche di prevenzione fitosanitaria e non sono state neppure avviate. Col diretti ha chiamato alle armi della terra, contrattori, decespugliatori, trinciatrici per dare battaglia all'insetto vettore della xylella. La sputacchina nella sua fase giovanile è contrastare l'avanzata della malattia e salvare l'ambiente e il pesaggio. Ma gli agricoltori non possono essere lasciati soli a tutelare il patrimonio agricolo e paesaggistico. Serve l'impegno di tutti gli antipubblici che hanno anche la possibilità di avvalersi della legge di orientamento. I trattamenti chimici e le lavorazioni hanno un costo, per questo col diretti chiede tra l'altro che sia da subito individuato e applicato uno specifico regime di aiuto in grado di indenizzare le operazioni. Il contagio ha già provocato 21 milioni di piante infette e una strage di ulivi lasciando un panorama spettrale e il danno del settore olivicole è stato stimato per difetto in oltre un miliardo e mezzo di euro, con oltre 8 mila chilometri quadrati di territorio colpito dalla fitopatologia pari al 40% del territorio regionale. Bisogna salvare la piana degli ulivi monumentali che ha già perso un terzo di quelli di inestimabile valore preservati nel tempo. Per questo serve, dice il presidente di Col di Rezzi, Savino Muraglia, una riflessione seria sulla scelta di aver ristretto la zona Cuscinetto e la zona contenimento dell'area delimitata Salento. Ed eccoci alle edizioni provinciali dei nostri Tg. Il sindaco di Trani bottarono, nonostante il Covid, inoltre un video messaggio ai cittadini in Puglia. Buone possibilità di zona arancione. Intanto nella zona vanno bene i vaccini. Vediamo il servizio. Per la zona arancione in Puglia uno spiraglio di luce. C'è ad annunciarlo ai cittadini il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, risultato positivo al Covid. Ricordiamo, nei passati giorni, il tutto a seguito di una videoconference con l'assessore regionale Lopalco, il prefetto ed il DG dell'Asl-BT. Incoraggiante inoltre, nelle ultime ore, è la lettera del presidente Emiliano al ministro Speranza per anticipare le aperture anche in Puglia. L'Abat, ricordiamo, è una di quelle province che ha sofferto le chiusure oltremodo. Ci sarà la verifica ufficiale per verificare se siamo al di sotto, come l'indice RT, al di sotto del 250, sicuramente potremmo diventare zona arancione. Speriamo di resistere con questi dati, diciamo che rispetto all'indice regionale, perché si terrà conto di quello regionale, sarà importante verificare la provincia di Bari, che è quella che ha l'indice più alto e che ce lo fa sforare in questo momento, ce lo fa portare a quantomeno oggi a 239. Considerate che ci sono province che hanno un indice ancora più basso. Noi siamo ottimisti, ci auguriamo di poter scendere, stare sotto i 250 e quindi entrare in zona arancione. Il sindaco invita a non abbassare la guardia. Questo non significa assolutamente che dobbiamo però diminuire poi la nostra attenzione, sarà importante anche se entrati in zona arancione a stare sempre attenti ad assumere i comportamenti, soprattutto per evitare che accada ciò che è accaduto dopo Pasqua. Capitolo vaccini. 10.000 cittadini di Trani hanno già ricevuto la prima dose, 3.000 sono 980 su 3.500 anagrafati tranisi. È chiaro che il problema nei vaccini sono arrivati oggi, nella BAT, 8.190 Pfizer, 2.400 Moderna, 2.790 AstraZeneca. Sono pochi, possono sembrare tanti, ma sono pochi se si considera che è chiaro che in questi numeri rientrano anche le seconde dosi e se consideriamo il fabbisogno anche della BAT. Una brutta notizia per i risparmiatori della Banca Popolare di Bari. Siamo molto amareggiati a dir poco insoddisfatti e delusi perché ieri il governo in Commissione Finanze della Camera, nella persona del sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra, in risposta all'interrogazione dell'onorevole Ubaldo Pagano che chiedeva indennizi per gli azionisti azzerati, ha bocciato senza mezzi termini la proposta. Lo dichiara l'avvocato Antonio Calvani dell'Unione Nazionale Consumatori che con i colleghi Corrado Canafoglia, Valentina Greco ed Ennio Cerio rappresenta il collegio di difesa di 230 azionisti nel processo in corso a Bari nei confronti degli ex amministratori della Banca. Nell'interrogazione si accoglievano le nostre sollecitazioni, spiega Calvani, ponendo con forza all'attenzione del governo la crisi gravissima che stanno attraversando circa 70 mila famiglie di azionisti della BPP che hanno visto sfumare tutti i loro risparmi e proponendo come per le banche venete l'utilizzo del fondo indennizi risparmiatori. Ma il governo se ne è lavato le mani, afferma Calvani, accompagnando vecchie scuse superate come la proposta transattiva fatta agli azionisti per un importo di 2,38 euro d'azione e l'emosina, conclude Calvani, destinata ad una platea molto ristretta, ossia agli azionisti che avevano aderito all'aumento del capitale del 2014 e del 2015. Il presidente di Confindustria Puglia, Fontana, sta con il procuratore capo di Trani, Nitti, per combattere la criminalità serve più Stato sul territorio, oltre alle denunce dei cittadini. Bisogna stare dalla parte dello Stato a sostenerlo il dottor Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia, che si associa al grido d'allarme lanciato dal dottor Renato Nitti, procuratore capo di Trani. In una lunga nota ricorderete della preoccupazione del procuratore per le crescenti infiltrazioni criminali nel territorio riferito alla provincia Bat e la richiesta allo di essere più presente per garantire quei servizi essenziali di sicurezza a tutela dei cittadini. Abbiamo accolto il grido di allarme del procuratore Nitti e del prefetto che hanno richiesto che la provincia della Bat si doti di tutte le forze di polizia che deve avere una provincia. La Bat è stata l'ultima provincia a essere creata, non c'è una questura, non c'è un comando provinciale dei Carabinieri, non c'è un comando provinciale della Guardia di Finanza. Ora, tutte queste cose qui, grazie anche all'attività del Maurizio Variante, del nostro prefetto, del precedente prefetto, siamo riusciti ad ottenerle, arriveranno a giugno, grazie a Dio avremo la presenza di più Stato nel nostro territorio e questo riuscirà a farci competere alla pari con altri territori perché il posto che abbiamo per posti di merce, assalti ai dir, posti di macchine, delinquenza di vario genere è ovviamente un costo sociale molto elevato che spessissimo viene pagato dalle nostre imprese, non ci possiamo permettere di avere sulle nostre spalle il peso della criminalità. Per Fontana si tratta di una priorità. È una priorità stare intanto dalla parte dello Stato, intanto denunciare tutte le situazioni in cui non dobbiamo essere corresponsabili. Se c'è un problema di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, dobbiamo denunciare, dobbiamo rivolgerci allo Stato perché lo Stato c'è nella Procura della Repubblica che oggi è autorevolmente guidata dal Renato Nitti, dal Procuratore Nitti, alla nostra Prefettura, alle nostre forze all'ordine che arriveranno in maniera importante in un futuro prossimo. La cronaca sindacale adesso, nessuna comunicazione sarebbe arrivata dal Comune di Foggia sulle vertenze in atto. Siamo preoccupati per i posti di lavoro di centinaia di persone. Questa la denuncia dei sindacati, vediamo il servizio. I lavoratori e le lavoratrici dei settori dei tributi, della manutenzione di immobili e strade comunali, dei servizi di assistenza nelle scuole non hanno certezze sul proprio futuro e non sanno cosa accadrà. Nessuna comunicazione dal Comune di Foggia sulle vertenze in atto. Siamo preoccupati per i posti di lavoro, affermano i sindacati, che denunciano nuovamente la mancanza di dialogo e concertazione con l'amministrazione del Comune capoluogo. Nelle ultime settimane ci siamo fatti portatori di richieste e dolianze rispetto ai servizi e ai relativi appalti che sono in scadenza e per i quali si cercano rassicurazioni sul futuro occupazionale e reddituale di centinaia di lavoratori coinvolti, affermano i referenti. Purtroppo, ancora una volta, siamo costretti a rimarcare la mancanza di comunicazione e dialogo tra l'amministrazione comunale di Foggia e le parti sociali. Sì, come Fisaskat, CISL e le altre categorie di CGL e Will del settore terziario, abbiamo inteso pubblicare una nota stampa per far sapere che purtroppo ad oggi il Comune di Foggia non ci sta dando la possibilità di dialogare, di confrontarci su alcune questioni rispetto a degli appalti pubblici, come può essere quello dei tributi, quello della manutenzione degli immobili e delle strade di questa città, così come di altri servizi che sono ormai in scadenza di appalto, soprattutto per cercare di preservare l'occupazione e il reddito di centinaia di lavoratori che ad oggi sono in attesa di risposte per il proprio futuro e non solo il loro, ma anche delle loro famiglie, perché spesso parliamo di lavoratrici e lavoratori monoreddito e in un territorio povero di occupazione, come può essere quello del Comune di Foggia o più ampiamente nella Capitanata, non è facile poi trovare una nuova occupazione. Per questo chiediamo pubblicamente all'amministrazione comunale di riscontrare le nostre richieste e di permetterci di tutelare i lavoratori e i lavoratrici che rappresentiamo in questi servizi, non solo per il lavoro, ma anche per il buon funzionamento della città. E adesso i dati della ricerca sull'infiltrazione della mafia nel settore del turismo. Se ammonta 2,2 miliardi di euro la stima dei proventi della criminalità organizzata derivante dall'infiltrazione economica nel comparto turistico italiano, la parte del Leone, secondo la ricerca demoscopica anticipata dall'ANSA e che è stata pubblicata in anteprima, la fa l'Andrangheta con un giro d'affari di 810 milioni pari al 37% degli introiti complessivi. A seguire la Camorra con 730 milioni, 33%, e la mafia con 440 milioni, ovvero il 20%, e la criminalità organizzata pugliese e Lucana con 220 milioni rappresenta il 10%. Osservando il livello territoriale emerge inoltre che nelle realtà del mezzogiorno si concentrerebbe il 38% degli introiti criminali pari a 825 milioni. A seguire il centro con 515 milioni, il nord-ovest 490 milioni e il nord-est con 370 milioni. La compagnia aerea Ryanair annuncia l'avvio di nuovi voli in tutto 7 dalla Puglia per la prossima estate, quella del 2021, voli a tariffe vantaggiose se le prenotazioni arriveranno entro sabato prossimo. Sentiamo. Ryanair annuncia l'introduzione di 7 nuove rotte dalla Puglia portando l'operativo per l'estate 2021 un totale di 68 destinazioni con oltre 314 voli settimanali. Le 7 nuove rotte sono da Bari verso Ciania, 2 voli a settimana, COS 2, Santorini anche 2, Sofia 5 voli a settimana, Izzante con 2 voli a settimana, e da Brindisi verso Malta sempre con 2 voli, e Rodi sempre con 2 voli a settimana, tutte attive da luglio come parte integrante dell'operativo di Ryanair sul mercato italiano. Ryanair conferma il proprio impegno sulla Puglia e si aspetta che il suo operativo estivo contribuirà a stimolare il traffico aereo e la ripresa del settore turistico. I consumatori italiani possono ora prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse con la possibilità di soffrire dell'offerta zero supplemento cambio volo. Per l'occasione Ryanair ha lanciato un'offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli 19,99 euro per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021 che devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 24 aprile sul sito Ryanair.com. Il direttore commerciale Jason McGuinness ha dichiarato mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere quest'estate e siamo lieti di annunciare 7 ulteriori nuove rotte dalla Puglia. Il presidente di aeroporti Puglia, Tiziano Nessi, ha detto l'annuncio del potenziamento del network internazionale di Ryanair si inserisce nella consolidata collaborazione che vede aeroporti Puglia e il vettore impegnati a dare ulteriore impulso alla ripresa dell'attività di linea sui nostri aeroporti. Ed ora andiamo a Barletta per parlare di ambiente, in particolare di raccolta dei rifiuti. L'amministrazione comunale di Barletta ha incontrato i cittadini residenti al quartiere Settefrati, al vaglio un centro di raccolta dei rifiuti e vediamo com'è andata nell'incontro di questa mattina. In contro i cittadini l'amministrazione comunale di Barletta per illustrare la realizzazione del terzo centro di raccolta comunale sorgerà nel quartiere San Giacomo Settefrati in un piazzale collocato a fianco alla parrocchia di San Nicola tra via Pertini e via De Nicola. A dialogare con i cittadini il sindaco Mino Cannito e l'assessore all'ambiente Ruggero Passero presenti alcuni assessori e consiglieri comunali. Un dibattito acceso per le perplessità di diversi residenti rispetto al progetto non sarà un immondezzaio, spiegano. Questo spiazzo sterrato proseguono da anni vuoto, preda di deiezioni canine e parcheggio selvaggio. Per l'amministrazione dovrà divenire simbolo della civiltà dei barlettani e del rispetto per l'ambiente. Per questo la previsione di un centro di raccolta rifiuti come quello presente in zona Parco degli Ulivi, un'isola ecologica dove poter sversare più agevolmente la propria spazzatura, precisano anziché tenerla in casa o sversarla come purtroppo accade per strada o sulle complanari. L'area sarà interamente riqualificata e sarà corredata da verde attrezzato. Per questo è già pronto un finanziamento di 120 mila euro da parte della regione. A questi 120 mila euro si aggiungeranno altri 120 mila euro da parte del comune di Barretta. Questo è soltanto il primo passo. L'amministrazione si impegna a breve ad illustrare, a condividere con i residenti il progetto per cercare di tramutare la preoccupazione in proposta. Le proteste devono diventare proposte. Abbiamo voluto incontrare i residenti o comunque una rappresentanza dei residenti del quartiere perché riteniamo che sia ormai necessario riqualificare un'area che da troppo tempo risulta degradata. Lo vogliamo fare con uno di quei centri comunali di raccolta che rappresentano una struttura di integrazione della raccolta differenziata. Lo vogliamo fare perché siamo convinti che una città virtuosa come Barretta oggi non può non dotarsi di strutture del genere. Ecco, continueremo ad incontrare la cittadinanza, continueremo ad informarla. L'invito che rivolgo è quello di rimuovere ogni possibile pregiudizio e soprattutto di pensare alla città del domani, a quella che deve essere la Barretta del domani, soprattutto perché oggi riteniamo che dall'igiene e dalla pulizia sia il nostro miglior biglietto da visita, a quale la nostra bella Barretta non può sottrarsi. I progettisti stanno ancora lavorando, ovviamente ci sono dei passaggi che vanno fatti in consiglio comunale perché ricordo che quest'area era interessata dal passaggio di una viabilità differente da quella che è oggi esistente e quindi questi progetti dovranno essere successivamente validati. E' esattamente sulla scorta di quello che è stato realizzato a Parco degli Olivi, un centro comunale di raccolta all'interno del quale non ci sono frazioni che vengono lavorate, non saranno emessi fumi, non saranno emissioni d'origine e soprattutto rappresenta un'utilità per tutti i residenti di un quartiere che oggi trovano nell'utilità del centro comunale di raccolta, un'integrazione alla loro raccolta differenziata. Restiamo a Barretta perché nel parco più grande della città, il parco dell'umanità, sono previste nuove giostrine, un'area fitness ed un'ampia area dedicata al passeggio dei cani. Giochi per i più piccoli, un'area attrezzata per il fitness ed un'area sgambamento cani sono le novità apportate al parco dell'umanità, il più grande di Barretta. L'ingresso dell'uscita a Barberini, fortemente voluto dai Barlettani con la costruzione della nuova zona 167. Si tratta del completamento dell'otto che ricade praticamente su quella che è la porta principale d'accesso al parco. Le novità in questione hanno riscontrato già numerosi like. Ma torniamo su una questione che si trascina da mesi. Noi stessi abbiamo sollevato dell'erbaccia e del verde pubblico malmesso su tutta l'intera area riferita al parco dell'umanità. Un pugno nell'occhio per quello che vuole essere un vero e proprio polmone verde della città. Un primo intervento di manutenzione. Per la verità c'è stato, ma non basta. L'area è grande ed il costo di manutenzione stessa è importante. Ma a tutto questo una soluzione la si deve trovare. Da Barletta a Foggia, strade impercorribili e pericolose. Questo è un allarme lanciato dalla CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, della Capitanata. Strade poco sicure dissestate in più tratti con condizioni spesso pietose del manto stradale. In questo stato si trovano almeno 30 importanti arterie varie della provincia di Foggia. Strade provinciali, nella maggior parte dei casi, anche molto trafficate. Questo è l'allarme lanciato da CIA, agricoltori italiani, della Capitanata. Abbiamo raccolto le segnalazioni dei nostri associati, ha spiegato Michele Ferrandino, presidente dell'associazione. Quello che ne viene fuori è un dossier che mette in evidenza criticità e necessità di intervento. Imprenditori agricoli, allevatori e gestori di agriturismi di tutta la provincia di Foggia da molti anni ormai chiedono che la questione della rete stradale sia affrontata in modo sistematico così da cominciare almeno a risolvere le criticità più gravi dalla strada provinciale 12 alla strada provinciale 528 che attraversa la foresta Umbria in direzione Monte Sant'Angelo. Ogni area della Capitanata ha a che fare con una o più situazioni deficitarie dal punto di vista della sicurezza e della piena agibilità della rete viaria. In alcuni tratti, soprattutto la sera, la percorribilità è impedita, resa pericolosa dalla scarsissima illuminazione e dalla mancanza di segnaletica. Il nostro auspicio, conclude l'appello di Cia Capitanata, è che il programma di interventi sulle arterie provinciali possa essere potenziato e sostenuto anche attraverso le risorse destinate a far ripartire l'Italia dopo l'emergenza pandemica. Il problema della viabilità è un nodo irrisolto da troppi anni nel nostro territorio. Adesso un episodio singolare, ma nel contempo grave, che si è verificato a Foggia. Un bus ha perso due ruote mentre circolava. È un sabotaggio, secondo l'azienda di trasporto urbano che si è rivolta in procura. Non si tratterebbe di un problema tecnico causale, ma di un vero e proprio sabotaggio ai danni dell'azienda Ataf. La perdita di due pneumatici, che si è verificata venerdì 26 marzo scorso, lo scrive in una nota l'azienda di Foggia che si occupa del trasporto pubblico urbano, comunicando che un autobus di linea durante la sua percorrenza ha subito la perdita di queste due ruote, per fortuna senza conseguenze e danni a persone o cose. A seguito di verifiche interne, l'Ataf, S.P.A., spiega l'azienda, è giunta alla conclusione che questo inconveniente è stato verosimilmente causato da una manovra volontaria di svitamento dei bulloni. Pertanto l'Ataf ha dato mandato allo studio legale Vaira di svolgere indagini difensive, anche di natura tecnica, finalizzate a verificare la sussistenza di ipotesi di reato. Gli esiti di questa attività, conclude l'azienda per il trasporto pubblico di Foggia, sono stati veicolati alla Procura della Repubblica mediante una querela contro ignoti per il sabotaggio subito dall'azienda e quindi bisognerà appurare questa vicenda e andare fino in fondo con le indagini che sicuramente saranno avviate a breve. E adesso una situazione che si verifica ancora a Foggia, incessante il lavoro di contrasto alle organizzazioni criminali da parte del prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, spiccate ulteriori sei interdittive antimafia. Antonella Davola. Il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha emanato sei nuove interdittive antimafia, tra l'area garganica, il basso e l'alto tavoliere. Sempre più incisivo dunque il lavoro di contrasto alle organizzazioni criminali dirette a penetrare il tessuto economico ed amministrativo di questo territorio. Un lavoro incessante condotto dal prefetto che con gli ultimi interventi fa salire a 42 il numero totale dei provvedimenti spiccati nel periodo del suo operato. Le aziende destinatari a delle misure interdittive che operano nel settore agricolo, in quello dei rifiuti e della rivendita di auto e pezzi di ricambio, sono la Ricicla SRL con sede a Tore Maggiore, la Alcar con sede a Cerignola, l'impresa agricola di Claudio Matteo con sede legale in San Marco e Lamis e le imprese Galassi Antonietta e Quittadamo Michele, entrambe con sede a Monte Sant'Angelo. I provvedimenti sono stati emessi a seguito degli accertamenti svolti dal gruppo Interforza Antimafia, composto da ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e da funzionari della locale Questura e della DIA, sezione di Foggia. E adesso le notizie flash, vediamo. A Bari i poliziotti della squadra mobile hanno individuato e arrestato il 35enne Salvatore Ficarelli, ricercato e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica. Ritenuto elemento del Canstri Sciullo deve espiare la pena definitiva di 7 anni e 11 mesi di reclusione per l'associazione delinquere di stampo mafioso, rapina, ricettazione e porto di armi. Coinvolto nell'operazione di nominata a Gorà, lo scorso 22 marzo si era sottratto la cattura per evitare e discontare la condanna. L'uomo è stato condotto presso il carcere di Bari. Con l'accusa di ricettazione, i carabinieri hanno denunciato un giovane di 25 anni di origini romene residente a San Severo, sorpreso alla guida di una Fiat Panda risultata rubata il 27 marzo scorso. L'uomo è stato sanzionato anche per aver violato le norme anti-Covid che vietano lo spostamento tra regioni. Il veicolo è stato restituito al proprietario. La pandemia spinge la svolta green nei comportamenti degli italiani con più di un abitante su 4, ovvero il 27% che acquista più prodotti sostenibili rispetto a prima del Covid. E quanto afferma la Coldiretti in occasione della giornata della Terra, dall'acquisto di prodotti a minore impatto ambientale, al taglio degli sprechi, dall'interesse per le energie rinnovabili, al riciclo, dalla sharing economy alla mobilità più sostenibile, sono molti, sottolinea Coldiretti, i segnali che indicano una crescente attenzione alla riduzione del consumo delle risorse del pianeta. Imminenti le riaperture per alcune tipologie di attività chiuse da tempo, le notizie a riguardo prevedono limiti e restrizioni che comunque renderebbero impossibile per gli sposi organizzare il loro giorno più bello secondo propri desideri e tradizioni, quanto afferma Confcommercio Puglia, raccogliendo le istanze delle aziende associate. È stato elaborato uno strumento importantissimo a tutela dello svolgimento dei ricevimenti, anche in scenari epidemiologici da zona gialla e bianca, garantendo così agli sposi regole certe con cui programmare tranquillamente la realizzazione del loro sogno. La proposta di protocollo è stata consegnata all'assessore regionale Lopalco. Un nuovo reclutamento per un'università più giovane, approvato all'unanimità il dispositivo di proposta di riordino della prima parte della carriera accademica, il cosiddetto pre-ruolo, ovvero quel percorso che dal conseguimento del dottorato di ricerca conduce all'entrata nel ruolo di professore universitario. Il testo, frutto di mesi di lavoro collettivo di tutti i rettori, intende fornire un supporto alla discussione sul tema in corso presso il Ministero e le Camere. Una proposta che supera i tecnicismi per affrontare i veri obiettivi, ringiovanire il corpo docente, armonizzare il sistema di reclutamento italiano con gli standard europei e internazionali per rispondere così in questa maniera al precariato, attraendo i giovani talenti e quindi superare la cosiddetta dicotomia tra ricercatore di tipo A e ricercatore di tipo B e grazie ad una pianificazione di risorse migliorare il rapporto studenti-docenti per raggiungere la media europea. Il documento della CRUI, rispondendo alle esigenze di riforma previste dalla Next Generation Europe, nasce dalla volontà di rendere sempre più attrattive le carriere di ricerca del nostro Paese in un momento storico in cui abbiamo preso coscienza del valore della ricerca e dell'alta formazione per affrontare la complessità delle sfide del domani. Chiudiamo così questa edizione del nostro Tg provinciale. Tutti grazie per la corte di attenzione e buon proseguimento con i programmi di Antenna Sud. Arrivederci.